Bella nottari, bentornati qui Yoshi e oggi siamo qui con il video per quanto riguarda i vecchi Toz della Ligan dal 13 al 23, 10 anni dei Tozze iniziamo subito con quelli del 13 Toz Ligan era sempre quel Toz che comunque era abbastanza interessante uscivano sempre belle perle, qualcuno romantico, qualche bel giocatore simpatico poi un carto da sempre con Ibrahimović, Diagone Silva e il terzino adesso mi sa che era Fanny Valbuena, quello messo là di Matuidi, bello prima di Matuidi Un Coulou, Paillet, l'altro in 1984 non me lo ricordava la punta addirittura avevano sparato una punta argento, titolare nel team e il terzino mi chiede di Amafi ma non penso un po' così Amafi il portiere pure c'aveva 60 anni dove fanno dietro? Ok, allora chi erano? non faccio io, sai che era carta per carta facciano te ah, Leandrè ah, quello con la foto con la giacca, questa mi ricordo Fanny Un Coulou Ah, mi diceva così, mi ricordo pure l'ora, era assurdo Cediu bello, sacco ah, ma era Tremulina, era porca troia Matuidi, Dicard Balmont Valbuena Capella Pierre Emerick Aubameyang Pagliamo preso Ambedi Jeremy Menestello questo pure, 90 velocità, 90 tripling Alia Dier e chi cazzo si ricordava? Varda Ibra, che carta ma stessi tanta roba comunque così Gerger 13 era abbastanza bello eccolo, è tornato è tornato l'aspirapolvere sì vediamo questi qui, va Capella bello oi c'è stavano belle carte abbasso un po' il gaine e parlo sul microfono così magari non si sente Tiago Motta Toz Matuidi Toulalan Capella Zlatan di nuovo Tiago Silva Ruffie Vasa Aurie e Bedi abbiamo avuto pure Bedi Mù, ricordo e c'è bello e qua te fa vedere ma stai una hit questo sito comunque te fa vedere pure la vecchia comparazione con la carta base e nia ma li mortacci sua che sega non vedi Aurie Basa Diagone Gier Bedimo Kurzawa PowerPSG Toulalan Motta costo più 5 da veloce è diventato il fenomeno Motuidi sempre bella carta Verratti Ah messa è bella e Ibra di nuovo Ambiti il primo la gazzetta la gazzetta giovane questo era e a buba garra e qua andiamo subito su Footbeams eh sì perché alcuni l'ho l'ho fatti l'ho preso in dose trova e ne guardavamo anche perché tipo quel sito c'ha solo quelli vecchi Ambiti bello Maxwell però ancora via così va Ancora Ibrahimo questo è la gazzetta che era Deva mazza belli to Staligan comunque ma fino a Muso è più belli per me pure sopra sopra quei due che abbiamo fatto sicuramente premier e sopra premier e sopra a Bundesliga ma tutta la vita ma non so perché c'ha le stazze tutte sovrapposte è buggato fammi un po' refresh magari perché ho zoomato se è buggato no è proprio bello grande pastore poi abbiamo Lopez Fekir Marchinhos Untiti Gradelli Munier sono tutti belli il primo Fekir sai che robetta e poi qua abbiamo bello che quello fatto peggio è il sito da IE vabbè clicciamo su ah clicciamo su non sapò clicciamo su l'immagine ho capito se zoom al 175% se dovrebbero vedere chi ci abbiamo qua ma se faccio così e la metto qua in mezzo esatto e poi la zoom tutta ti dirò un po' sgranata però meglio ti incarcio un bocca Enia Matiaco Silva David Luiz CDB DR su DR o come ricordo ancora Matuidi Ibra Kubufal e L'angel di Mare Ben Arfaura bello bello vero la gazzetta perché ci abbiamo ancora Max Cosiello Ben Yedder Manda Bernardo e poi abbiamo tutto il resto insomma un'altra un'altro Robert team simpatico poi vedi questo quanto è zoomato ok l'anno che Monaco vince il campionato tutti i tozza Subasic Mendy ma questo è Mendy quello che pava Benjamin buh glick poi c'era perché c'era pure una ah quello che va no Edouard Mendy non mi pare Tiago Silva Ferratti Lemar ule vedi vedi le marco e carto ma questo scusa che cazzo ti fa ma questo è 17 eh si ma è 13 14 15 16 17 si Bernardo torna la gazzetta perché camani mamma ma che camani che 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 clamoroso poi che ci abbiamo un panchino aaaah è già arrivato un bappello ten fabbigno perren carrasso se ma si è bello dove ma si pure l'immortacito era un fenomeno era cipri n guarda cipri n baga i co ma se ma sono dei team spaziali comunque ma aspetta un team della madonna pure a sto giro fifa dicio eh questo mi ricordo bene neymar 97 fekir camani pure 4 che deba che belli mamma mia gustavo glick che seri pier toz tau venne 94 kim pempe martino slecom tempanca ce l'avevamo ah così il vambap verrà ti ho capito falcao russilion mariano ah ma è vero mariano l'anno che poi torna a real tipo è più a 7 10 r7 me so deboucher auar grande campione e rami rami papà rami questi sono del 20 ma già 19 stavamo scusa ma hanno certato qualcosa 17 no questo è il 18 questo è il 18 e questo è il 19 ah ok con il tuono e mezzo di maria neymar junior pepe savernier ah vedi quel là l'ha sparito poi che va all'olimpia cosa grande savernier ma si guarda sto diagomendez che cazzo era con 90 di velocità ma io guardo pure erano belli cioè comunque erano boost ah questo era mendee e mi sa che c'era pure la guarda che gli faceva triple uscita sb oh ma guarda che cazzo di team assurdi che droppavano poi ci stavano pure i flashback e le sbc veramente uno più bello dell'altro di maria insomma ricordo ricordo di maria si era buono o meno perché mi era un po' madonna sto pepe pure volava fifa venti neymar deva bella di maria verratti marchigno silva renatone lì lei vince il campionato con renato si mi sa da si cosi mi sa ma mi ricordo ancora lala atalle ma è stata l'ingiocabile veramente un fenomeno una delle carte migliori tastare d'artimenti troppo bello costo averse ci hanno riprovato ma secondo me natale è proprio un'altra categoria progressi molto molto belli poi che ci abbiamo il 21 vabbè il 21 andiamo su però pure roba recente è sempre una hit perché marchigno con 87 velocità sto andrei costava due sordine era clamoroso di maria depai ben yedder mbappé neymar pure qui sempre loro poi ci abbiamo bamba yilmaz claus e labba eh ma pure qui yilmaz ora si muoveva però mi sa era una mezza merda poi ci abbiamo allora team del 22 sempre vabbè ma ma sto vabbè era devastante avevo un fisico un vabbè bello bello pezzo poi ci abbiamo mendez marchignos salì balafonte claus guend madonna pure sto guendonzi ammo lava pagò sego fofana bello pure questo me lo ricordo questo pure era bello per essere bello fofana mamma mia che carta mi ricordo se rimane un altro anno va in Arabia Saudita direttamente no quest'anno c'è andato ma pure sto mendez che chievo dire l'anno scorso che avevano fatto messi in boppella david con l'occhialetto tutto pazzo pure questo era bello una bella carta claus marchignos medina ben jeter samba andret tutti fofana de novo e poi se ne va quest'anno comunque tutti 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 forti cioè veramente non c'è un team che dice brutto non c'è una squadra che dice mi sono piaciuti tutti infatti io mi aspetto sempre belle mine mi aspetto un sisso con flashback sicuramente o un moment ma boff zero gol e zero assi in senso che in momento io devo trovare però hanno fatto silas insomma quindi potrebbe stare che te fanno un altro giocatore e qua niente di ne voi quelli che vi sono piaciute più quelli che avete utilizzato di più io ho usato tutti poi ovviamente i top sono sempre stati devastati questo l'avuto aspetta aspetta quando era l'anno che ho trovato un bappé nei mar il 22 e il 21 o sai non mi ricordo l'avevo trovato nei picco 81 o più della ligan che erano devastanti l'anno che esce il birthday 4-4 5-5 quindi può essere che era questo che avevo trovato vabbè ragazzi io vi do un bacione ci vediamo come al sovi su twitch e ciao